Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Xretter e oggi andremo a vedere come utilizzare la selezione all'interno di WorldEdit Minecraft Allora, innanzitutto la selezione come si crea, se non lo sapete andate a vedere il tutorial relativo che ho fatto Comunque, nella maggior parte dei casi ci basterà avere un'ascia di legno in mano e selezioniamo due punti E così facendo avremo la nostra selezione Io vi ricordo che posso vedere la mia selezione grazie a una mod esterna o un plugin esterno chiamato WorldEditQui Normalmente non si vede per quanto in realtà c'è Bene, e adesso andiamo a vedere appunto tutti quanti i vari comandi che possiamo utilizzare con una selezione La selezione può essere utilizzata anche in altri modi che però vedremo in altri tutorial Il primo comando che è forse uno dei più utili è il comando //regen E questo comando tutto quello che fa è andare a ricostruire la selezione che abbiamo in base al seed Quindi se noi andiamo a, per dire, piazzare dei blocchi o anche soltanto a fare qualche altro comando e altre cose Con //regen la selezione sarà ricostruita e tutte le modifiche che abbiamo fatto dalla creazione del mondo saranno cancellate all'interno della selezione Poi un altro comando è //set che andrà a rimpiazzare tutti quanti i blocchi all'interno della selezione Con un blocco per dire facciamo dirt cioè terra e però questo comando va a rimpiazzare ripeto tutti i blocchi Quindi anche quelli d'aria e infatti la nostra selezione adesso è un grosso cubo di terra Per tornare a dire basta che diciamo undo E se invece per dire vogliamo che vengano rimpiazzati tutti quanti i blocchi tranne quelli d'aria Come facciamo? Utilizziamo il comando //replace oppure anche rep E poi mettiamo il blocco che vogliamo che vada a sostituire tutti quanti gli altri tranne quelli d'aria Premiamo invio e come vediamo ci andrà a sostituire tutti i blocchi tranne quelli d'aria E se invece noi volessimo andare a sostituire quelli d'aria e non quelli nel nostro caso di pietra Come facciamo? Utilizziamo lo stesso comando solo che scriviamo prima il blocco che vogliamo andare a sostituire E poi il blocco che vogliamo mettere Quindi facciamo in questo caso air dirt e così andrà a sostituire solo i blocchi di aria e non anche quelli di pietra Ciò ovviamente si applica a tutti quanti i tipi di blocchi e quindi per dire se io voglio soltanto eliminare l'erba Basta che vado a fare //rep grass Metto la virgola così posso selezionare anche altre cose per esempio sul grass, l'erba alta e anche l'acqua E poi metto il blocco che voglio che venga piazzato al loro posto quindi area E così facendo semplicemente scompariranno Poi voglio per esempio andare a sostituire tutto quanto la pietra e voglio che sia della terra Primo invio ed ecco che avrò sostituire la pietra Però come vedete adesso io ho della terra come faccio a metterci dell'erba Potrei semplicemente utilizzare il comando rep di prima e andandolo a sostituire solo i blocchi di terra Ma ciò mi andrebbe a sostituire tutti quanti quindi anche quelli che non dovrebbero essere con l'erba Volendo io potrei utilizzare il comando //overlay selezionando poi il blocco di erba Ciò mi andrà a posizionare uno stato di blocchi su quelli già esistenti Quindi non è che va a sostituirli va proprio a metterci uno stato sopra Però è un'ottima alternativa Premo invio e come vedete andrò a piazzare uno stato sopra Adesso per dire metto uno stato di pietra e mi andrà a sostituire soprattutto quanti i blocchi Uno stato di pietra Come vedete qua i blocchi che ci sono qua non sono selezionati Sono giusto al pelo fuori dalla selezione E quindi non è andata a mettere i vari strati sopra questi blocchi qua Proseguendo possiamo fare tante altre cose con la selezione Perché come abbiamo già visto col comando set possiamo andare a fare un grosso cubo di un tipo di blocchi Volendo però possiamo anche andare a fare semplicemente dei muri attorno alla nostra selezione Quindi facciamo //walls Selezioniamo il blocco e così facendo andrà a mettere un muro attorno alla nostra selezione Noi non vogliamo solo muri vogliamo anche un tetto in pavimento Possiamo utilizzare il comando outline e andando a mettere il blocco E così ci metterà anche un pavimento e un soffitto Vogliamo andare a scavare all'interno della nostra selezione e togli tutti quanti i blocchi tranne quelli direttamente visibili Possa che utilizziamo il comando //hollow E così facendo andrà a togliere soltanto i blocchi che ci sono all'interno e non quelli in superficie o nelle pareti Quindi per esempio io adesso vado a selezionare quest'area qua con il tetto di caverna Passo di nuovo hollow e come vedete andrà a tenerci le caverne e non andrà a farci buchi Però poi andrà a togliere tutti quanti gli altri blocchi tranne quelli normalmente visibili senza scavare E infine adesso guardiamo l'ultimo comando che ci può servire per le selezioni Semplicemente selezioniamo un'area e il comando //center Mettendo poi il blocco ci andrà a posizionare dei blocchi nel centro della selezione In questo caso la mia selezione è con un lato dispari e con gli altri due pari E quindi ci andrà a mettere un blocco e poi due Perché il centro perfetto della selezione è quest'angolo qua al centro di questo blocco qua Bene, questo video è stato molto breve I comandi su order non sono affatto finiti, ce ne sono molti altri E però ho scelto di dividere in altri tutorial perché servono a cose differenti E quindi non perdetevi quei tutorial Da Xradar è tutto per oggi Xradar burn